Dentro, ma anche fuori, nel sole di primavera, si corre all'interno del carcere romano di Redivia, con vivi città 2015, si aprono al mondo esterno 20 istituti penitenziari. Ritengo che sia un dovere da parte di un'amministrazione come quella minorile rappresentarvi e darvi atto di quanto voi fate ed operate all'interno di un settore che è molto delicato, qual è quello carcerario. Secondo me lo sport è un divertimento, non conta molto la vittoria. È un progetto proprio di integrazione sociale, tanto è vero che le squadre, come avete detto, da studio, sono formate da persone che hanno un disagio mentale, ma anche da operatori, da medici, da operatori sanitari. Quando il gioco diventa dipendenza, liberi da gioco d'azzardo, tema di un convegno nazionale ad Orvieto, promosso dalla UISB. Noi se vogliamo parlare di benessere, dobbiamo tenere insieme tutte le componenti, quindi dal punto di vista sociale, culturale, sportivo, fisico, sanitario. Lo sport, se non parla con la scuola o non parla con la famiglia, è molto difficile che riesca a produrre il migliore dei risultati.